I makers sono degli innovatori, degli artigiani digitali, delle persone che smanettano e creano oggetti che ci raccontano il futuro. Le mani nel presente e la testa nel futuro sono i sognatori concreti che hanno presentato le innovazioni tecnologiche più diverse alla Torino Makers Fair nel terzo padiglione di Torino Esposizioni. 4.000 metri quadri di entusiasmo con una caratteristica comune, l'attenzione all'impatto sociale. Che siano l'esoscheletro modulare, l'alza bici universale for all per rendere autonomi disabili e anziani, i potenti faretti di sicurezza per le bici, l'efficienza energetica. Questo è presente e futuro insieme, ormai si mischiano il futuro e il presente perché la tecnologia ha una rapidità tale per cui ci sono le scuole ma ci sono anche le iniziative del territorio, la nostra esperienza manifatturiera, quindi le imprese che abbiamo che devono evolversi, devono guardare le nuove tecnologie grazie anche ai nuovi giovani che dalle scuole passeranno al mondo del lavoro. Accanto alla variegata sezione artistica dello Share Festival, le innovazioni per l'economia circolare di rete, restituzione tecnologica del Sermigo o il progetto per riciclare in proprio la plastica da riutilizzare come elemento prezioso. Noi insegniamo come può essere riciclata a livello domestico e quindi quanto è semplice riciclarla. L'altra legge fondamentale è che ne abbiamo tantissima di plastica, quindi usiamo quella che abbiamo, la trasformiamo, la ricicliamo e non ne produciamo altra.